I finanzieri del gruppo di La Mezzaterme hanno dato esecuzione alla confisca dei beni appartenenti ad un esponente di rilievo della criminalità organizzata locale. Il provvedimento della magistratura, eseguita dalle fiamme gialle, è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su conforme richiesta del procuratore distrettuale antimafia alla sede, articolata sulla base di un'informativa del gruppo della Guardia di Finanza di La Mezzaterme. Le indagini della Guardia di Finanza hanno così consentito di mettere ancora in luce la pericolosità sociale del soggetto, la sua appartenenza ad una guerrita organizzazione indranghetistica e la dedizione all'accompimento di gravi reati, dei cui proventi ha vissuto abitualmente anche in modo agiato per anni. Il sequestro in argomento è basato su indagini di polizia economico-finanziaria istituzionalmente svolte dalla Guardia di Finanza, tese ad aggredire i patrimoni illetiti conseguiti dagli appartenenti all'andrangheta, mediante i proventi delle svariate attività criminali compiute negli anni scorsi. I finanzieri Lametini, infatti, dopo aver eseguito indagini di polizia giudiziaria finalizzata a evidenziare gli aspetti criminali soggettivi del prevenuto, hanno concentrato l'attenzione investigativa sul patrimonio realizzato dal medesimo. Gli sforzi investigativi hanno quindi condotto, fra gli altri, alla confisca, che ha avuto come oggetto una villa ubicata in città, risultata nelle disponibilità concrete del prevenuto, nonostante fosse formalmente intestata alla moglie ed un'autovettura. I mirati accertamenti patrimoniali e reddituali delle fiamme gialle, condivisi dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, sono infatti riusciti a dimostrare che i beni confiscati sono di valore del tutto sproporzionato e ingiustificato rispetto ai redditi leciti dichiarati. Ciò ha consentito alle fiamme gialle di fornire alla magistratura un solido quadro indiziario per disporre la confisca dei cespiti patrimoniali. Il valore si attesta in oltre 250 mila euro. L'operazione odierna rientra in un più vasto dispositivo di contrasto alla criminalità organizzata predisposto dal procuratore della Repubblica e conferito al comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro.